il rapporto tra le generazioni insomma questo rapporto nonno padre figlio diventa molto interessante e nel momento in cui dici soffermi un attimo a pensare ti apre delle finestre e vai a vedere un pochino dietro e ha subito riportato a pensare a me a mio padre ai miei figli papà aveva dei pochi ma dei principi fondamentali uno di questi era il lavoro il modo di lavorare mi ha passato senza insegnarmelo una serietà sul lavoro che incredibilmente io ho ritrovato in mia figlia e poi ci sono le gestualità e sono proprio identici sono proprio piccoli tic se vuoi piccole manie l'esperienza fatta con i genitori in posti nuovi è sempre un grande regalo perché sono poi immagini che rimangono fissi che rimangono anche nelle case essere onesti se c'è una cosa veramente utile in una famiglia è parlarsi e non è lo scontro ma il confronto la capacità di saper riconoscere il dono enorme che abbiamo nella vita e di saperla prendere leggermente che se vive meglio io un consiglio ve lo do andate al cinema a vedere strange world un mondo misterioso è un film pazzesco io mi sono divertito da me